niente eccetera eccetera. Volevo dire che nel mese di marzo il commissario straordinario del comune di Palermo ha intestato la piazza dietro il teatro piondo tra la via Venezia e la via Roma a Franco Franchi e Cicci in Grassia. Questo tratto di strada si chiamerà piazza Franco Franchi e Cicci in Grassia e si aspetta la sovrintendenza per dare il parere positivo. Sicuramente ce la faremo entro il 9 dicembre così la inaugureremo il 9 dicembre. Tra l'altro quello è un punto storico perché lì si esibivano Franco e Ciccio e da lì è nato il successo coordinato in campo al teatro piondo. La parola a Francesco Pertullo. E voglio dire questo che io da Frizi, no che c'è già Frizi, tu fammi dire Frizi, come faceva, come un programma come si chiama? I soldi ignoti. Io questo che ha detto lui l'ho detto in diretta, quindi è la verità quello che stiamo dicendo. Vi spiego? Di tutto ciò che si sta dicendo è la pura e santa verità che ho a dietro la piazza e che c'è a Piazza Piondo, a dietro verrà chiamata Franco Franchi e Ciccio in Grassia. A cuciria, poi diremo a noi. Passi anno più gassero, pochi fu, pochi grambista, una signora assai simpatica, mi sinistra la chiamista. Nella strada di Leone, per la strada di Mosevai, io presto con uno stupido il nazone anche anyway, un signore gentrista non si serve a tartare, mi dica solamente non sta chiamata, no. grazie 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 grazie